Nome? Tommaso Beatrice Cognome? Savioz Monaco Agli assoluti per? Per fare il meglio possibile, abbiamo lavorato tutto l'anno per questo obiettivo Vincere Di? Qual è il miglior pregio di Beatrice? In pedana? In pedana La concentrazione Miglior pregio di Tommaso? Tutto cervello questo ragazzo Il peggior difetto? Troppo emotivo Troppo calcolatore E fuori dalla pedana il peggior difetto? Troppo generosa Troppo generosa Il miglior pregio? Una ragazza simpaticissima Molto disponibile Fai una carezza a Tommaso? Vado sudato Fai un urlo Fai un urlo Fai un urlo Grazie ragazzi Grazie ragazzi Grazie ragazzi